L'arrivo di Maya al Parco Safari di Pombia è una bellissima operazione di welfare animale. Con la vecchiaia l'elefante aveva bisogno di trovare un posto fisso per continuare la sua vita in condizioni ottime. Maya è l'eccellenza del lavoro svolto anche dalla SOS Elefanti. Con i suoi problemi fisici Maya non sarebbe in grado di sopravvivere in natura. La direzione del parco ha preso molto seriosamente il futuro di Maya qui al parco. Abbiamo visto che c'è un grandissimo cambio dal momento che è arrivata adesso. L'elefante è molto più sveglio. Possiamo anche migliorare le cose di più per essere sicuri che lei si sta molto bene al Safari di Pombia.